Sindaco, a seguito del terremoto del 21 agosto l'ufficio di collocamento sulla nostra isola non ha più una sede e si trasferirà a Procida, una perdita per tutti e sei comuni. Allora, non è ancora definitiva questa vicenda della riallocazione nell'ambito dell'isola di Procida dell'ufficio del collocamento, però è giusto che si facciano delle opportune riflessioni sull'atteggiamento della città metropolitana rispetto a questa problematica. Noi siamo stufi di ricevere delle attestazioni di solidarietà che poi risultano essere soltanto virtuali e poi nella concretezza questa solidarietà noi non la riscontriamo, non la riscontriamo neanche da un punto di vista burocratico da parte degli uffici della città metropolitana perché nel caso di specie qualche ufficio della città metropolitana si sta appellando a problematiche burocratiche per non far riaprire a costo zero per la città metropolitana l'ufficio del collocamento sul territorio del comune di Ischia. Questa è una cosa grave. A gennaio la competenza dovrebbe passare dalla città metropolitana alla regione. Potrebbe esserci quindi semmai un trasferimento sull'isola di Procida a provvisorio? Io penso che non possiamo far subire ai lavoratori ischitani il disagio di doversi spostare presso l'isola di Procida quando poi uno dei sei comuni isolani come il comune di Ischia in maniera diligente si era reso disponibile a costo zero ribadisco a dare la disponibilità di un locale che fino a qualche mese fa era destinato per sede della Genesis e aveva tutti i crismi previsti dalla legge per poter essere destinato all'ufficio pubblico. Trovo pretestuoso sicuramente l'atteggiamento dell'ufficio tecnico della città metropolitana e ci faremo portavoci presso chi fa la politica nell'ambito della città metropolitana per rappresentare la nostra contrarietà rispetto a questo atteggiamento che stiamo riscontrando.